Egittologia, antropologia, fisica. Sono solo alcune delle tematiche che i nostri ospiti, esperti studiosi conosciuti e riconosciuti in Italia all'estero, andranno ad affrontare in ambito culturale, sociale, politico. Ecco a voi Pianeta Terra, un progetto realizzato dal circolo culturale Passepartout, il Club dei Viaggiatori, associazione di promozione sociale di Rivarolo Canavesa. Riccardo Manzini, da molti anni professional member dell'International Association of Egittologists, è autore della collana in otto volumi di descrizione ed analisi di tutti i complessi piramidali egizi e degli edifici similari, oltre a quattro volumi di vari argomenti egittologici. Titolare dei corsi di egittologia di alcune sedi dell'Università della Terza Età in provincia di Torino, ha tenuto oltre 120 conferenze in Italia e dall'estero ed è stato invitato a partecipare ad alcuni congressi internazionali. È appena uscito in libreria un suo volume monografico sulla progettazione della piramide a doppia pendenza di Snefru ad Ashur. Dopo aver esaminato i complessi piramidali, in particolare le piramidi in tutti i loro aspetti religiosi, simbolici e tecnici, non si può completare questa panoramica su questi monumenti se non si affronta, se non si esamina quello che è stato il loro ruolo nella società egizia. Abbiamo esaminato in questi vari incontri l'importanza e i legami tra le maggiori credenze di quella cultura e l'evoluzione della tecnica. Ma è altrettanto importante comprendere quanto questo monumento sia interconnesso con gli eventi storici di quella società. Cioè non solo come la società li abbia vissuti, ma l'ingerenza di questi edifici nella storia di questa civiltà. È una cosa molto importante perché abbiamo ripetutamente sottolineato che per gli stessi egizi la piramide era, il complesso piramidale era un emblema della loro società. Ma a loro volta la piramide è stato un incentivo allo sviluppo di questa società. Ad esempio ha stimolato la crescita tecnica e di conoscenze, di conoscenze costruttive. Quindi alla fin fine tutte queste caratteristiche del complesso piramidale, o meglio caratteristiche che hanno generato il complesso piramidale, si sono concretizzati in una scelta architettonica ben definita, ma il complesso piramidale ha influenzato, una volta ottimizzato il risultato, ha influenzato la società egizia profondamente. Tant'è che il fatto stesso che il complesso piramidale fosse considerato un emblema della loro società, è stato utilizzato nel corso della storia egizia proprio per giustificare certe situazioni o addirittura per generare certe situazioni. Per comprendere questi legami sociali del complesso piramidale bisogna ripercorrere brevemente alcuni punti salienti della storia egizia, anche se sembrano molto lontani dal dimostrare questi legami. Poi in effetti si tirano le somme e si vede che ci sono questi legami dovuti a queste situazioni. Risaliamo all'inizio della storia egizia in cui la popolazione è suddivisa in varie tribù sparse su tutto il territorio nazionale, le quali progressivamente si aggregano in nuclei più articolati, che sono i villaggi e poi le città, in base probabilmente al fatto che queste attorno alle tribù che sono più evolute, più tecnicamente o più culturalmente più importanti o magari anche economicamente più importanti. Questa aggregazione fa sì che ad un certo punto precedente a quello periodo che si chiama la fondazione della prima dinastia, cioè prima dell'unificazione del paese, nel periodo predinastico, tutto l'Egitto fosse diviso culturalmente e forse anche politicamente in due grandi entità che sono l'Alto e il Basso Egitto, cioè l'Alto Egitto a sud e il Basso Egitto a nord, in cui esistono due culture differenti che sono legate a delle caratteristiche, ad esempio alla presenza di cimiteri all'interno dell'abitato o all'esterno dell'abitato. La cosa importante è che questo dualismo del paese, pur essendo poi, come vedremo, unificato con la prima dinastia, beh, il ricordo di questo dualismo persiste per tutta la storia egizia e noi lo ritroveremo anche nei complessi piramidali, espresso architettonicamente. Lo troviamo in moltissimi aspetti della cultura egizia, ad esempio la titolatura dei sovrani. I sovrani dopo la quarta dinastia hanno sempre una titolatura composta da cinque nomi, che sono cinque nomi simbolici, con riferimenti religiosi. Ma in particolare il terzo nome, che è il nome che si dice nebti, dove neb vuol dire signore, ti è il femminile, y è il duale, vuol dire proprio le due terre, cioè le signore delle due terre. Cioè l'epiteto è un avvoltoio e un cobra, che sono le due divinità Uto e Uagit che caratterizzano l'alto e il basso Egitto. Cioè è il nome con cui il sovrano dice di essere accettato e riconosciuto come tale dai due, le due paesi, dalle due terre, dalle due entità pre-dinastiche. Non solo, ma il primo nome in cartiglio, cartiglio è quel ovale in cui è scritto il geroglifico del nome del sovrano, beh l'epiteto che precede questo nome è costituito da un giunco e da un'ape, che sono gli emblemi dell'alto e del basso Egitto. Ora, la cosa interessante non è tanto la presenza di questi riferimenti, ma il fatto che questi riferimenti compaiono anche nelle titolature dei sovrani effimeri dei periodi più bui. Cioè è talmente importante il ricordo della divisione del pre-dinastico che diventa un titolo di merito. Cioè anche per i sovrani più meno importanti diventa un titolo di merito dire però se il paese è unito è grazie a me. In pratica il discorso che viene portato avanti è questo. E il ricordo di questa dualità del paese noi ce l'abbiamo in mille altre espressioni. Intanto a volte lo chiamano i due regni, a volte lo chiamano le due terre, a volte lo chiamano l'alto e il basso Egitto. Ma noi ce l'abbiamo ad esempio nelle statue dei sovrani assisi in cui sui due lati di base, dove dovrebbe esserci il trono diciamo, c'è raffigurato un giunco e un fiordilotto uniti assieme, che sono i simboli dell'alto e del basso Egitto. Cioè se il paese è unito è unito grazie alla figura del sovrano. E questa è una cosa estremamente importante perché è talmente importante che verrà conservata per tutta la storia egizia. E' importante perché? Perché dà luogo ad una delle componenti del complesso piramidale, dà giustificazione ad uno dei componenti della piramide. Questa dualità, questa divisione del territorio è superata con l'unificazione del paese che avviene con la prima dinastia, in particolare con un sovrano che si chiama Narmer. Ma in effetti questa unificazione è piuttosto aleatoria, continuano ad esserci dei segni, degli indici, degli indizi che ci dicono che l'unificazione non è ancora effettiva. La unificazione diventa effettiva e stabile con l'inizio della terza dinastia, in particolare con il sovrano che si chiama Geser, per il quale non perdiente, viene concepito il primo complesso piramidale, proprio per celebrare questa unificazione del paese nella sua figura. Ma non solo questo monumento celebra l'unificazione, l'unicità della figura del sovrano di conseguenza, ma l'unificazione del territorio nella sua veste, nella veste del sovrano. Ma dice molto di più, perché? Perché simboleggia il fatto che il sovrano si presenta come una veste escatologica, cioè di sicurezza sul futuro, sull'aldilà. Si presenta come custode della maat. Riassumiamo brevemente quanto già detto più di una volta, cioè per gli egizi il concetto di universo era un universo destinato a finire. Questo creava insicurezza, creava incertezza, creava precarietà proprio nella sensazione della persona. E si inventano questa figura divina della dea maat, la quale è l'ordine cosmico, cioè l'universo è sì destinato a finire, ma finirà nel momento previsto dal destino, solamente se la successione degli eventi, cioè l'ordine cosmico, verrà rispettato. E il sovrano è garante di questo ordine cosmico. Quindi l'insicurezza della gente trova una sicurezza nella figura del sovrano, che è rappresentato ad esempio dall'imponenza delle piramidi, le quali essendo in quell'epoca di pietra enormi, danno la sensazione di solidità, di tempo che non scorre, quindi di fine dell'universo che viene posticipata, posticipata al momento previsto. Ma questa sensazione di precarietà è anche sostenuta dal fatto che trova una sicurezza nella figura del sovrano come in altre popolazioni trovano sicurezza nella figura degli dèi. Ma in Egitto il sovrano non è mai un dio, non è mai considerato un dio, è semplicemente colui che essendo l'unico ad avere rapporti con gli dèi, parliamo dell'antico regno in cui tutto è legato, cioè c'è una separazione netta tra mondo reale, mondo degli dèi e il sovrano che è intermedio tra questi due mondi, è l'unico intermedio tra questi due mondi, tant'è che ad esempio l'oltre tombe è previsto solo per il sovrano nell'antico regno. Allora la figura del sovrano di fatto riveste non un ruolo di divinità, ma lega a sé anche questa valenza di modo che il suo complesso funerario è di fatto un idolo laico, come fosse un tempio laico, cioè un luogo di culto, un luogo di venerazione perché è talmente esclusiva la figura del sovrano, sia perché è colui che dà tranquillità a questa insicurezza dell'uomo egizio, sia perché è lui che intercede con gli dèi per il benessere del paese, ed è l'unico che può intercedere, beh guardare un complesso piramidale significa guardare un tempio, laico ma un tempio. E' molto importante infatti, e qui incominciamo a vedere la veste sociale del complesso piramidale, il fatto che venga costruito sempre a limitare dell'altopiano libico dove questo degrada nella valle del Nilo. La valle del Nilo è dove esiste la vita dell'egiziano, beh il complesso piramidale posto a limitare di questa valle significa da un lato che si accentua l'imponenza, quindi l'importanza del defunto, dall'altro che la gente che vive nella valle ha questa presenza continua, incombente, cioè gli ricorda continuamente che se la giornata arriverà al termine non si fermerà l'universo è perché c'è questa piramide, cioè questo individuo che fa sì che le cose continuino regolarmente. E questo è il motivo per cui viene scelta la sede a limitare dell'altopiano libico dove questo degrada. Ma il fatto che questo complesso venga legato quindi in maniera così completa alla figura del sovrano presta anche il fianco ed è questa la cosa interessante, presta anche il fianco a che il complesso piramidale venga utilizzato per fini politici, cioè diventi un emblema politico. Il complesso piramidale rappresenta l'Egitto, le migliori conoscenze dell'Egitto, il complesso piramidale rappresenta anche il luogo dove è conservato il corpo di colui che ci dà sicurezza. Quindi è un tempio il complesso piramidale, per lo stesso egiziano. E questa è la cosa importantissima da capire. Non è un monumento e basta, è proprio un luogo di culto. Attenzione, non di culto diretto perché la gente non accedeva al culto, ma di culto nel senso di presenza che ricorda continuamente all'Egizio che se l'universo va avanti è anche grazie a questo personaggio unico nella storia. Tant'è che non per niente i complessi piramidali vengono costruiti nella zona desertica, nel piatto orizzonte desertico, quindi anche a grandissima distanza spiccano queste piramidi. A ricordare a tutti che se la quotidianità scorre normalmente è grazie alla figura del sovrano. Tutto questo va bene fin tanto che il modello di antico regno va in crisi per una serie di motivi che sono economici, in periodi di carestie, politici, ma va in crisi questo modello. Cioè con la sesta dinastia, l'ultimo sovrano della sesta dinastia, Pepi II, crolla questo modello e c'è il primo periodo, quello che si chiama primo periodo intermedio, che normalmente viene definito periodo di anarchia, ma è molto peggio che un periodo di anarchia. Non è un'anarchia politica, è un'anarchia culturale, cioè la sicurezza che la gente prima trovava nel sovrano non la trova più, perché la figura del sovrano non è più importante, perché lo Stato si è disgregato. Se un sovrano non è in grado di provvedere alla sua importanza, alla sua valenza, come può importare, come può assicurare la sopravvivenza della gente. Quindi va in crisi proprio un modello, che è ben peggio che una crisi di anarchia. Questo secondo periodo intermedio, quindi c'è un crollo di tutto il modello precedente. Però quello che ci importa, ed è qui dove questo discorso che sembrava molto lontano, ritorna al complesso piramidale, è che come va in crisi il modello, la figura del sovrano, di conseguenza va in crisi il modello del complesso piramidale, perché se uno non ha più importanza, non ha più importanza neanche l'altro. La cosa estremamente importante è che in questo primo periodo intermedio noi abbiamo i monumenti di un solo di questi sovrani o pseudo sovrani, che si chiama Ibi, il quale fa costruire come edificio funebre una piramide. Cioè lui cerca di di darsi un'importanza utilizzando politicamente il modello della piramide, del complesso piramidale. Di piccole dimensioni, peraltro non terminata, ma è importantissimo che lui non sceglie un modello a caso, sceglie il modello del complesso piramidale. Perché? Ma perché comunque il complesso piramidale continua ad avere questa sua valenza, questa sua importanza politica. Non solo, ma pur di riallacciarsi ai grandi sovrani del passato, che ormai sono i sovrani dell'antico regno, i vari cheope e chefre, accetta di costruire questa sua piramide in un luogo assolutamente sfavorevole, vicino alla rampa cerimoniale del complesso di Pepi II, cioè a Saqqara Sud, vicino alla rampa cerimoniale del complesso dell'ultimo sovrano importante dell'antico regno. Quindi lui cerca di utilizzare, e questo è il legame di cui si parlava all'inizio, cerca di utilizzare, dimostra che il complesso piramidale, proprio per i suoi emblemi, può essere utilizzato a fini politici, a fini di propaganda. E questa è la cosa importante di questa scelta. Quindi, vediamo di capire bene come si è arrivati a questa importanza, diciamo, propagandistica del complesso piramidale. E per fare questo, ritorniamo indietro, ne cominciamo dall'inizio. Il primo complesso piramidale è quello di Geser, il quale si fa costruire un complesso in questa area che si chiama Saqqara, ma il motivo per cui lui sceglie quest'area abbastanza ovvio, annesso, proprio vicinissimo a Saqqara, c'è Menfi, cioè la sua capitale. Quindi lui si fa costruire questo complesso piramidale vicino alla sua capitale. Ed è altrettanto e comprensibile suo figlio, Sekemket, o meglio il successore, sembra che sia il figlio ma non si è sicuri, comunque il suo successore Sekemket, che fa costruire il complesso vicino a quello del padre, motivato, vicino al padre, vicino alla capitale. Dopodiché per la terza dinastia succedono delle cose abbastanza strane, cioè i suoi successori, che sono Kaba, che si fa costruire un complesso a Zawet e Larian, più a nord, e Huni, che si fa costruire un complesso a Meidum, molto più a sud, non si hanno, non si comprende perché abbiano scelto queste aree. Perché noi non conosciamo, probabilmente dovuto a nostra ignoranza, noi non conosciamo cosa c'era nelle vicinanze di questi due posti. Non abbiamo trovato nulla e quindi non lo possiamo sapere. Stati infatti questi due sovrani inaugurano due necropoli lontanissime da Sakkara. La cosa interessante è che invece è comprensibile perché il successore, e lo stesso discorso peraltro è valido per Snefru, cioè l'iniziatore della quarta dinastia, che inaugura la zona di Dashur, costruendo addirittura due piramidi in pietra, a un chilometro e mezzo circa di distanza l'una dall'altra, due grandi piramidi in pietra. Non si sa perché abbia scelto questo sito. Sicuramente ci saranno stati dei motivi, noi oggi non li conosciamo. Invece conosciamo il fatto che il figlio e discendente e successore di Snefru, che è Cheoper, sceglie di costruire proprio complesso e quindi di inaugurare la necropoli di Giza, perché Giza è nelle vicinanze di Eliopoli. Eliopoli è il centro di culto del dio solare, del dio Ra, del dio sole, che è quello che la cui simbologia è stata uno dei grandi motivi di concepimento del complesso piramidale. Quindi è comprensibile perché Cheope utilizzi questo, inauguri questo sito. Bisogna fare un piccolo e breve inciso, cioè è chiaro che quando un sovrano inaugura con un complesso piramidale il proprio sito, una necropoli, scelga il luogo più favorevole. Il luogo più favorevole è sempre quello a limitare dell'alto piano libico dove questo degrada verso la valle. Ma poiché le pieghe del terreno, che si chiamano sinclinali, in Egitto, per motivi di tettonica, sono tutti inclinati da nord-est a sud-ovest, sempre, i successori che volessero utilizzare quella necropoli dovrebbero allinearsi in successione sud-est, nord-est a sud-ovest, per forza di cose. E infatti così vedremo che succederà successivamente. Sta di fatto che a questo punto, cioè con il regno di Cheope, noi abbiamo una situazione curiosa. Abbiamo due piramidi a Saqqara, due piramidi a Dashur, una piramida Meidum, una piramide a Zawet-Laria, una piramide a Giza. Alcune hanno motivo di essere, vicinanza con centri di culto, con la capitale, altre non hanno apparenti motivi di essere. Sta di fatto che a questo punto questa scelta potrebbe sembrare casuale, perché non volevano più stare vicino ad altri, sono andati a inaugurare aree nuove. In effetti il motivo per cui hanno scelto queste aree nuove è molto stile, ma molto importante perché lo troveremo negli sviluppi successivi, cioè di fatto ogni sovrano inaugura un'area ritenendo che la sua importanza sia tale che altri cercheranno di seguire il suo esempio, cioè di scegliere il suo cimitero. Quindi in questo modo è una presunzione di fatto dei singoli sovrani, a parte quelli che hanno motivo, vicinanza con la capitale o vicinanza con il luogo di culto, ed è un motivo che noi troveremo per tutta la storia egizia in cui il sovrano inaugurando un'area ritiene che se altri lo seguiranno lui acquisterà un'importanza maggiore. È una cosa politicamente molto importante, non praticamente. Politicamente è molto importante questo tentativo, questa cosa. Sta di fatto che il successore di Cheope è un sovrano che si chiama Gedefra, Gedefra che per un po' di tempo è stato ritenuto un usurpatore ma oggi è ritenuto invece un sovrano legittimo, un parente o fratello o figlio di Cheope, il quale però fa una cosa apparentemente piuttosto strana, cioè abbandona l'area di Giza, quindi l'area della piramide di Cheope e fa costruire il proprio complesso piramidale su di una collina a nord che si chiama Burowash, una piramide piccola, ma intanto avendola costruita su un'alta collina risulta la piramide in assoluto più elevata dell'Egitto, quindi più vicina al cielo. Ma il motivo per cui lui ha costruito questa piramide non è stato probabilmente perché lui era un usurpatore come è stato detto in passato, ma perché lui in questo modo comunque avendo appurato che per costruire la piramide di Cheope ci erano voluti vent'anni, lui per intanto in questo modo si assicura una piramide e contemporaneamente inizia a costruire a Zawet e Larian una grande, probabilmente perché non è sicuro che sia stato lui, ma tutto lo fa credere, una grande piramide che oggi è conosciuta come la grande fossa in quanto è l'unica parte realizzata in questa piramide. La cosa interessante in questa analisi che stiamo facendo è perché lui ha scelto l'area di Aburoash, è comprensibile la collina, l'unica collina esistente, non è comprensibile la scelta di Zawet e Larian, perché Zawet e Larian l'unico edificio esistente era questa piramide di Kaba, sovrano della terza dinastia, peraltro neanche importante, che non risulta essere un suo parente. Allora ci si chiede come mai è scelto quest'area e una risposta non c'è. È importante invece che i successori di Cedefra, Kefren e Micerino, ritornino all'area di Giza e costruiscono le loro piramidi in quest'area che noi oggi vediamo. È importante perché conferma che in questo modo si è accresciuta l'importanza di Cheope, cioè ha avuto ragione la scelta di Cheope. Loro si fanno costruire dei complessi piramidali, indipendentemente dalle dimensioni, attenzione, dei complessi piramidali vicino al luogo di culto del dio Ra e vicino al luogo di culto del sovrano Cheope. Quindi accrescono, loro acquisiscono una particolare importanza per questi due motivi ma nello stesso tempo danno importanza ulteriore al sovrano Cheope. L'ultimo sovrano poi saturano in questo modo lo spazio di Giza, dove non c'è più spazio per fare altre piramidi perché a sud del complesso di Micerino c'è un grosso vallamento e quindi non è più possibile di inabbandonata l'area per questo motivo. L'ultimo sovrano della quarta dinastia è Shepseskaf, il quale fa costruire un edificio stranissimo, cioè non più una piramide, una grossa mastaba in pietra, ma una mastaba, e la fa costruire inaugurando l'area di Saqqara Sud, cioè un'area a sud di Saqqara. Questi due fatti hanno fatto pensare per molti anni che fosse un usurpatore, in effetti i motivi probabilmente sono molto diversi, lui non è un usurpatore, o comunque hanno fatto pensare che fosse in rotta con la religione solare. Probabilmente non c'entra nulla, tant'è che gli appartamenti di questo edificio sono appartamenti di tipo piramidale, quindi copiano il modello della piramide. Lui non si allontana al modello della piramide. Probabilmente il motivo è dovuto al fatto che, visto che per costruire una piramide ci si metteva molto tempo, beh è un periodo di decadenza, la fine della quarta dinastia, di grossa decadenza. Quindi lui, come Gedefra ha scelto un edificio piccolo, ma realizzabile in tempi umani, diciamo, Shepseskaf sceglie di fare questo edificio molto più piccolo di una piramide, pur in pietra, ma molto più piccolo di una piramide, che richiama molto la mastaba. E inaugura questa nuova area di Saqqara Sud, la quale è stata probabilmente scelta in quanto è a metà distanza tra Saqqara a nord, dove c'è il complesso di Geser e del figlio e successore Skemket, e a sud l'area di Dashur, dove ci sono le due piramidi di Snefru. Cioè in pratica lui sceglie una equidistanza tra queste due grandi necropoli. Finisce la quarta dinastia, ma finisce molto debole, molto più debole di com'è iniziata la quarta dinastia. Quindi tutto va ridimensionato. Allora, è importantissimo in questo senso di legami sociali il fatto che il primo sovrano della quinta dinastia, Usarkaf, si costruisca un complesso piramidale molto piccolo, una piramide molto piccola, ma adiacente al complesso di Geser, cioè a Saqqara, adiacente, proprio vicinissimo al complesso di Geser. Questo a significare che lui cerca la sua legittimazione, la sua importanza non più nell'edificio, ma nel luogo, cioè vicino al grande sovrano oramai mitizzato del passato. I suoi successori della quinta dinastia però inaugurano un'area nuova che si chiama Abusir, subito a nord di Saqqara, dove quasi tutti costruiscono il loro complesso piramidale. Perché? Ma perché intanto evidentemente si sentono sufficientemente forti da poter inaugurare una nuova area e siamo al discorso precedente del motivo per cui vengono inaugurate queste varie aree seppulcrali. Ma perché è un'area vergine, quindi c'è tanto spazio, infatti vengono costruiti tanti complessi piramidali, Saurà inaugura l'area, poi viene costruito quello di Neferirkarà, di Neferefrà, di Niusarà, tutti in questo allineamento nord-est e sud-ovest come ha anche Giza, ma a un certo punto l'area anche questa viene saturata, cioè tutta la parte disponibile è stata utilizzata per costruire questi complessi. Quindi gli ultimi sovrani della quinta dinastia ritornano, non potendo continuare a costruire edifici a Dabusir perché non c'è più posto, ritornano a Saqqara e ritornano in condizioni assolutamente intanto per lo stesso motivo per cui era andato Usarqaf, cioè per cercare una loro nobilitazione, costruendo un proprio complesso vicino a quello di Geser, dell'iniziatore di questo grande Egitto. Ma complessi molto piccoli, in posti molto spavorevoli, pur di stare nella necropoli di Saqqara. E questa è la conferma che è importante, il complesso piramidale ha acquisito una sua valenza politica, questa è la dimostrazione, cioè pur di darsi un'importanza, mettiamola così, vanno in posti angusti, in posti sfavorevoli, ma nell'area di Saqqara vicino a queste grandi piramidi. Gli ultimi sovrani dell'Antico Regno, quelli della Sesta Dinastia, a questo punto neanche più loro hanno spazio a Saqqara e allora iniziano a costruire tutti i complessi nell'area di Saqqara Sud, dove esisteva la mastaba e il faraon, quella di Saqqara, esisteva solo quell'edificio, perché è vicino e contiguo all'area di Saqqara, ma è un'area vergine, quindi tutti i complessi, Gencara i Sesi, Pepi I, Pepi II, Mernerà, tutti quelli della Sesta Dinastia costruiscono i propri complessi a Saqqara Sud. La cosa è piuttosto importante perché finisce l'Antico Regno per questo crollo che abbiamo visto in precedenza del primo periodo intermedio. Quando nel Medio Regno la XII Dinastia riconsolida il potere centralizzato, è importantissimo l'utilizzo che fa del complesso piramidale. questa dinastia è una dinastia tebana, quindi molto a sud dell'Egitto, zona montuosa, non avrebbe senso costruire un complesso piramidale in quella zona, cosa fanno? Vanno a nord, vicino o addirittura dentro alle aree piramidali già esistenti, perché? Perché è un piatto orizzonte desertico, quindi la piramide ha un senso, ma soprattutto vanno in quelle zone perché così possono riutilizzare il modello del complesso piramidale e quindi riacquisire le valenze emblematiche che aveva acquisito questo edificio. Di conseguenza cosa succede? Succede che alcuni sovrani cercano, allora i sovrani della XII Dinastia tutti costruiscono piramidi, quindi cercano un legame con la grandezza del passato, con le valenze, con le simbologie del passato. Alcuni costruiscono i propri complessi piramidali, ad esempio quelli dell'area di Dashur, perché nell'area di Dashur ci sono le grandi piramidi in pietra di Snefru, cioè di un sovrano mitico del passato. Allora nell'area di Dashur noi troviamo tre piramidi del Medio Regno che sono Sesostri III, Amenemath II e Amenemath III che costruiscono i propri edifici in zone molto sfavorevoli però vicino alle grandi piramidi di Snefru. Altri invece cercano con una illusione di inaugurare nuovi cimiteri, nuove aree cimiteriali, nuove necropoli, che sono ad esempio quelle di Mazgun, di Elisht, di Awara, di Ellaun, in cui di fatto ci sono poche, praticamente solo queste singole piramidi. È interessante il fatto che scelgano questi sovrani della XII dinastia queste aree che sono tutte limitrofe alla grande osi del Fayum, grande osi fertilissima del Fayum, a cui i sovrani della XII dinastia prestano particolari attenzioni. Una zona estremamente fertile e loro quindi scelgono queste aree, queste nuove necropoli nelle adiacenze del Fayum. Gli ultimi sovrani del periodo, cioè o meglio le ultime piramidi costruite addirittura nella XIII dinastia, quindi nel secondo periodo intermedio, le ultime due piramidi sono interessanti perché, a parte gli aspetti architettonici, ma perché anche loro cercano di darsi una importanza, una validità rispolverando il modello oramai quasi abbandonato del complesso piramidale, della piramide, della necropoli regale, tant'è che costruiscono i propri complessi piramidi nell'area meridionale di Saqqara Sud, cioè un'area assolutamente sfavorevolissima, tant'è che persino oggi è difficile arrivarci, sfavorevolissima pur di essere nel cimitero regale di Saqqara Sud. Ora, tutta questa valenza politica che viene data al complesso piramidale, è talmente radicata nella cultura egizia, è talmente importante nella società egizia, che noi troviamo per tutta la storia egizia, fino all'epoca romana compresa, che la gente si fa costruire le proprie tombe in una di queste grandi necropoli, quindi giustificando la scelta sociale, la scelta politica del complesso piramidale. La storia egizia finisce poi nel 30 a.C. con la conquista romana, ma gli ultimi sovrani egizi sono i Ptolomei, cioè che prendono il nome da Ptolomeo I, che è uno dei diadocchi, cioè uno dei grandi generali di Alessandro Magno, il quale conquista, oltre che mezzo mondo, conquista l'Egitto, quando lui muore, il suo impero viene suddiviso tra i suoi maggiori generali, a Ptolomeo spetta l'Egitto. Inizia questa dinastia dei Ptolomei, i quali però sono greci che non vogliono minimamente interessarsi e mischiarsi con la popolazione locale, tant'è che l'unico di questa dinastia che parli, oltre che il greco, l'Egizio, che conosca la Geroglifico, è Cleopatra, la Cleopatra VII, quella famosa della battaglia di Azio, di Giulio Cesare e di Marco Antonio. Tutti gli altri parlano solo greco e si astengono, e una cosa è strana perché i dotti greci si vantano di aver studiato in Egitto, ma i Ptolomei che vivono in Egitto non si interessano minimamente di capire la cultura e la civiltà egizia, quindi non capiscono nulla delle piramidi, che cosa sono, perché ci sono. Tant'è che esistono due casi emblematici, uno di poco precedente, cioè del secolo precedente ai Ptolomei è vissuto Erodoto, che è questo grandissimo scrittore, iniziatore della letteratura di viaggio, alcuni dicono anche della letteratura storica, ma in effetti la sua intenzione era documentaristica di viaggio, non di storicità. Erodoto il quale racconta il paese, ma racconta il paese come gli è stato raccontato dalle guide locali. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che quando parla di piramidi, nel suo secondo libro, dice delle cose strampalate che non stanno in piedi. Perché? Ma perché l'ultima piramide era stata costruita 1500 anni prima. E lui racconta non quello che ha studiato, perché lui non voleva studiare, lui non è uno scienziato. racconta quello che evidentemente gli ha raccontato la guida locale, che ne sapeva esattamente come lui. Si è inventato delle cose e allora racconta come sono state costruite le piramidi, racconta che Cheope era talmente cattivo che fece prostituire le proprie figlie per procurarsi il materiale per costruire la piramide. Cioè delle cose greche, delle cose romanzate, non delle cose scientifiche. La cosa che fa ridere è che buona parte degli pseudo-egittologi oggi utilizzano, si rifanno ad Erodoto come se fosse una fonte scientifica. Erodoto non è una fonte scientifica e non voleva essere una fonte scientifica. L'ultimo personaggio interessante di questo mondo tolemaico è Aristotele, il grande filosofo, il quale da buon greco non comprende il significato delle piramidi, ma gli dà una valenza economica. Cioè, secondo Aristotele, le piramidi furono costruite per tenere impegnata la popolazione per evitare che sorgessero delle ribellioni in pratica. Senza considerare due aspetti, uno che noi conosciamo molto bene, la piramide ha una motivazione simbolica, non ha una motivazione sociale, ha una motivazione simbolica. Poi viene utilizzata a fini sociali, ma la sua motivazione, la sua genesi è simbolica. Punto. Due, non esiste una moneta quando vengono costruite le piramidi. Quando vive Aristotele sì, ma quando vengono costruite le piramidi non c'è una moneta. Quindi non ha senso un discorso economico di questo tipo. Soprattutto perché quando vengono costruite le piramidi tutto ed è maniale. Quindi la gente non può, non solo, ma il paese è ricchissimo, ha un'eccedenza di produzione. Quindi non ha senso una ribellione e quindi non ha senso cercare di evitare una ribellione. Con questo concludiamo tutto questo lunghissimo incontro sulle piramidi, sperando di aver chiarito alcuni aspetti, ma soprattutto di aver invitato, stimolato qualcuno ad approfondire gli argomenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.